Musica Parliamo di BioZone, un prodotto che accoppia olio e ozono. Che cos'è esattamente e cosa fa, come agisce sulle piante? BioZone è il primo prodotto per l'agricoltura a base di ozono. Parte dall'idea di MultiOxygen, azienda che nel corso della sua storia si è sempre occupata dell'applicazione dell'ozono anche in ambito cronomico, che qualche anno fa cercò una stabilizzazione di questa molecola per permettere di portare sulle piante quelle che sono le sue importanti e rinomate proprietà. L'ozono come agisce sulla pianta? Come è registrato questo prodotto? Quando può essere utilizzato in quale tipo di agricoltura? Sì, l'importanza è da dire che l'ozono una volta che mi penetra nell'olio mantiene stabili quelle che sono le sue proprietà appunto perché si lega ai doppi legami della massa grassa dell'olio. Una volta che viene distribuito sulle piante attiva quella che è la sua azione corroborante, azione per la quale è stato appunto registrato il prodotto in questa nuova categoria di prodotti che sono utilizzabili anche in ambito dell'agricoltura biologica. Quindi sostanzialmente è un prodotto corroborante che movimenta quelli che sono i metaboliti secondari della pianta e attiva quindi quelle che sono le normali induzioni di resistenza, quindi permette alla pianta di essere diciamo più equilibrata, di captare meglio gli elementi nutritivi e di resistere meglio anche a quelle che sono le problematiche, le avversità sia di natura biotica che di natura biotica. Provando, cioè testando il prodotto come corroborante, volendo provare la sua azione di induzione di resistenza, avete visto in realtà degli effetti collaterali? Assolutamente sì, effetti collaterali sia per quanto riguarda contenimento di funghi, batteri o virosi che allo stesso tempo biozona crea diciamo un odore sgradevole tale per cui l'insetto non è più istigato nel voler attaccare la cultura e tende quindi ad allontanarsi in maniera naturale.